Ciao a tutti! Gianni Morandi è il mito bolognese! Gianni Morandi torna nella sua Bologna da vincitore, un podio e la certezza di essere stato uno dei protagonisti di questo festival. E noi ne abbiamo seguito le tracce nei luoghi che frequenta abitualmente e che sono pronti a festeggiarlo. Allora io voglio sapere se Gianni Morandi è di casa qua. Secondo, ti porto nel covo delle tifose di Gianni Morandi, seguimi! Andiamo! Sono là che cantano da stamattina! Perché ci sia qualcuno che canta qua! Grande Gianni! Che cos'è che stava cantando? Stai andando forte, apri tutte le porte e fai entrare il sole. Allora quanto lo conoscete Gianni? Da bambino, da bambino giocavamo insieme da ragazzi. Perché lui aveva i nonni qui a Botteghino e l'ora d'estate scendeva da Moghi d'Oro e lo chiamavamo il Montanaro. Hai capito? E cosa mangia Gianni? Sai? Lui mangia light, super light. Tagliatele al pomodoro. Quindi non al ragù? No! Però ci vede che è una ricetta perfetta. Ma voi avete votato per lui? Avete fatto il tifo? Abbiamo obbligato i clienti del bar a votare il numero 18. Ma gli anziani che non sapevano... Gliel'avete insegnato voi? Certamente! Dai Gianni! Lui ha una forza che noi settantenni cogliamo con una soddisfazione infinita. Un'altra dose per violenza. Gabriella Musica 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 Musica